Ciao a tutti ragazzi siamo Remy e Molly E oggi si taglieranno tutti i capelli di Molly Non si tagliano i miei capelli oggi Oggi si taglia l'erba perché l'erba del vicino è sempre più verde Esatto ragazzi oggi dovremo tagliare 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 E sarà divertentissimo perché ogni volta che taglieremo tanta erba Potremo prendere dei trattori nuovi più grossi più belli più tutto Perché come potete vedere qui abbiamo questo trattore E pian piano che taglieremo l'erba la possiamo vendere e upgradeare il nostro trattore Ragazzi il gioco è prendere più erba possibile per poi venderla e aumentare il trattore Ecco vedete questa è tutta l'erba che stiamo tagliando Ma Molly stai lasciando dei pezzi di erba Ma dai io vedi mi piace tagliare Ma no ma guarda tutti quei ciuffini Eh vabbè quei ciuffini rimarranno lì Ma no ma guarda come la stai No guarda ragazzi ma come sto tagliando l'erba Ok andiamo a vendere Andiamo a vendere eh No ancora puoi raccoglierne un bel po' Quanto è bello questo gioco È bellissimo ma no ma come la stai tagliando Ah tagliamola tutta male così la regli da fastidio Ma no La regli una perfettina Ma bisogna andare per ordine Raccogliamo i soldini Non si toglie l'erba Oh mamma mia quanto da fastidio vedere l'erba tagliata Ragazzi ma voi non da fastidio vedere l'erba tagliata tutta a pezzettini Andiamo a vendere No 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 ma non hai pulito niente Ok vendiamo Ok vediamo Upgrade Upgrade Ok io direi due rotelle Vai aggiungi Sì Wow Ottimo vai Ok vai Andiamo a tagliare Ecco adesso devo mettere a posto tutta l'erba Che non ha tagliato molli Ecco così Pugliamo bene tutto Vai brava Reby Sto pulendo tutta l'erba che hai lasciato nel mezzo Guarda Non ti piace proprio vedere l'erba che rimane così Guarda come si taglia Bisogna tagliare per ordine Tutto in fila Uo ma c'è l'erba gialla Uo c'è l'erba gialla Ma vai più lenta lì Uo ma andiamo più lenta sull'erba gialla Più andiamo? Più lenta Uo che cosa? Perché secondo me per andare sull'erba gialla Ci vuole un trattore più grande Più potente Guarda come sto tagliando No hai tagliato la pannocchia Ma era da tagliare la pannocchia Ma guardate la Reby come perfettina E sto pulendo tutta l'erba che hai lasciato in giro Però in effetti era bello fare così Vai Reby continua Oh cavolo Guarda quanti pezzettini di erba ho lasciato in giro Eeeh raccogliamo Ah noi poi dopo che la tagliamo la dobbiamo anche raccogliere Vedi tutti quei pezzettini di erba Tutti questi qua Guarda quanta roba che hai da raccogliere Infatti devo pulire tutto Devo pulire tutto perché tu hai fatto un disastro No devi prendere l'erba tagliata così la vendiamo Guarda che Non pregatene di tagliarla La devo tagliare bene Perché tu hai lasciato dei ciuffetti per sparsi per il campo Ecco io La colpa è mia adesso eh Ma li vuoi raccogliere tutti? Ok ok adesso raccolgo tutto Guarda oh fra un po' non mi ci stanno più Oh è pieno Guarda è pieno ok Devo andare a vendere Devo andare a vendere 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 Ok intanto Tocca a me ciccia No no una testa Mi piaceva tagliare l'erba Guarda Reby te hai tagliato tutta l'erba E io raccolgo invece Dai ma non è giusto Adesso però non andare nell'erba gialla No no Ecco lo sapevo non dovevo dirtelo Ah raccogliamo tutto Prima di andare sull'erba gialla devi pulire bene il prato verde Sì prato verde Prato verde sì Ma non è giusto perché te inizi sempre il prato nuovo io devo finire di pulirlo Prato gialla Ma non è giusto così Guarda è tutto super pulito che cosa vuoi più di così Ok va bene bravo Guarda non ci sono più fili d'erba Sei contenta? Guarda che bel campo tutto pulito No Devi andare a venderli così poi possiamo fare l'upgrade E andare più veloce sul prato giallo Vendere 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 E soprattutto se vai a vendere dopo tocca a me No Sì Ok vendi tutto Allora vediamo Upgrade Vediamo Possiamo fare che ha più ruote Oh Quante ruote Dai riccioco No tocca a me tocca a me Vediamo aspetta non hai finito di fare gli upgrade Sì sì che ho finito Ho finito Ma ce ne sono altri Ho detto che ho finito Oh così posso iniziare il prato nuovo Sì grazie ai miei upgrade Ah tagliamo tutto il prato Oh abbiamo sbloccato Un nuovo livello Grande Guarda 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 Appena taglierò io taglierò tutto male così Guarda guarda sto dagliando questo prato alla perfettione Mamma mia che lentezza Rayby Ma non è vero Si muova si muova E ma perché tu al posto di aumentare la velocità hai aumentato il livello Và знаю Bene allora visto che giochi dopo di me Ti scambino tutto il prato se tagliamo come tagliamolli a caso vai a vendere dai così gioco io vai a vendere guarda ho fatto un sacco di soldi guarda quanti guarda tutti questi pezzettini ma dopo che abbiamo tagliato tutta l'erba cosa succede? non lo so aumenteremo di livello vai vai continua a tagliare guarda quanta vai a vendere no ancora non ho la barra pina non mi vuole far giocare guarda che bello ragazzi questo gioco mette un sacco di serenità è bellissimo tra poco è la barra pina e tocca al sottoscritto guarda comunque gli angoli li ho tagliati per prevenzione appena tocca a me ecco sicuramente tu non li taglierai oh devi vendere il mio turno no prima vado a fare l'upgrade però vai ecco vendiamo tutto grande vediamo possiamo aumentare anche la velocità era la velocità adesso andrai velocissimo per merito del mio upgrade guarda quanto vado veloce vai adesso tagliamo male adesso tagliamo male io dovevo andare piano e tu adesso puoi oh bravo stai tagliando i bordi bene sto tagliando i bordi bene no dai ok raccogli raccogli tutto raccogli tutto raccogli no così cavolo so chi te prima non raccolgo mai niente raccogli tutto raccogli tutto taglio male così ci mettiamo molto di più raccogli tutto taglia 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 ma stai tagliando oh no no grazie no grazie no grazie taglia ancora taglia ancora che oh la mappa abbiamo sbloccato si vai ancora ancora taglia tutto taglia tutto taglia tutto ok io però prima prenderei tutte queste cose le rivendiamo vai perché possiamo andare in una nuova mappa Reby vai vai raccogli tutto oh c'è ancora dell'erba da tagliare qua erba oro vai vai del grano il grano ancora prima era l'erba poi il grano qui il grano è vero vai prendi tutto prendi tutto chissà dopo che cosa ci sarà chissà dopo che cosa ci sarà abbiamo tagliato tutto oh Reby non c'è più nulla non c'è più niente ok andiamo a vendere vai devi vendere per forza vendi vendi oh no non cascare no non è vero c'erano ancora qualcosa no 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 andiamo oltre oh vediamo allora io direi prima upgrade upgrade vediamo vai direi questo oh e basta ok non c'è più fare niente andiamo a vedere mappa oh oh salve adesso ah possiamo costruire possiamo costruire ma non abbiamo niente da costruire guarda il nostro mino ah guarda puoi sbloccare quello ecco vai andiamo nel prossimo livello vai vediamo oh mamma sono curiosissimo oh adesso si inizia da qua tocca a me tocca a me sono l'erba blu oh l'erba blu sono l'erba blu ma cosa stai facendo l'erba blu e poi sono io che taglio male l'erba eh no ho fatto la striscia guarda però no va troppo piano l'erba blu per tagliare cosa per tagliare l'erba blu serve un altro upgrade un'altra e invece noi ancora non abbiamo quella capacità lì stai tagliando l'erba malissimo esatto e poi sono io eh stai tagliando l'erba malissimo taglia l'erba blu e la taglierò malissimo perché così no Rebi no così tu dovrai pulire tutto c'è l'erba blu ma guarda no Rebi la tagli male guarda eh non si può fare l'erba così vedi cosa si prova quando si sta a guardare eh oh mamma ho il carrello quasi pieno ecco il pieno lo sapevo ma volevo giocare ancora mi dispiace vediamo vediamo fammi upgrade no tocca a me questa volta vediamo un po' la capacità io tocca a me vai vai erba blu adesso ne puoi no non vale adesso il tuo livello durerà di più perché ho aumentato la capacità grazie Rebi ti voglio vedere dai non vale ah si prendiamo l'erba blu si allora facciamo così siccome abbiamo giocato tanto direi di lasciare un super mi piace di iscriversi se volete il secondo episodio fatecelo sapere e io voglio vedere tra le cose la rei è tutto ciao 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 Grazie a tutti